Giulia e Piere stanno mettendo a posto la nuova casa, la stanno sistemando, bei tempi quando ci pensavano i genitori. Buongiornissimo a tutti quanti ragazzi, come potete immaginare sono giornate molto impegnative, molto caotiche, quindi sto ancora sistemando e gestendo un sacco di cose, le famose cose dei grandi, quindi tutto quello che concerne una casa e le responsabilità. Che bei tempi quando vivevamo con i nostri genitori e si occupavano di tutto loro, era proprio un bel, ci lamentavamo tanto e invece che bei tempi. Detto questo sono andato a fare un altro fitting stamattina e poi vabbè capirete perché cos'è, insomma per cosa sono tutti questi fitting. Prinzoso portiamo a fare un giretto, si sta adattando in casa nuova anche se ha un po' fatica, porello, terza casa, non capisce più niente. E niente, poi faremo un po' di chiacchierine, promesso, mi mando un bacio. È proprio vero, quando c'erano i genitori che pensavano a tutto erano proprio bei tempi, adesso invece dobbiamo fare cose da grandi.